Adesso la cronaca invece con un incidente che c'è stato tra un'auto e una moto oggi pomeriggio intorno alle 16.45 in via Flaminia a Rosciano di Fano all'altezza del negozio Antonioni Sport. Lo scontro è avvenuto tra una Ford Fiesta e una moto Yamaha sulla quale viaggiavano padre e figlio 21enne. Secondo i primi rilievi l'auto guidata si sarebbe fermata in prossimità delle strisce per far attraversare un pedone nel mentre la moto l'ha superata non riuscendo però poi a fermarsi in tempo per evitare lo scontro avrebbe urtato contro il lato sinistro della macchina andando a schiantarsi contro il muro della carreggiata opposta. Il centauro di 44 anni è stato trasportato al torrette di Ancona con l'eliambulanza si trova in prognosi riservata mentre il figlio è ricoverato all'ospedale di Fano perché lamentavo un dolore alla gamba. Sul posto due pattuglie della Polizia Locale.